Ragazzi non è possibile, non è possibile, prendiamo l'Atletico Madrid, ma non è possibile, non è possibile, non è possibile, cioè in seconda fascia, squadre come Lione, squadre come lo Schalke 04, abbiamo preso l'Atletico Madrid. Ma non è possibile, la squadra più forte l'abbiamo presa noi, l'abbiamo presa noi perché non mi potete dire che l'Atletico Madrid non sia una squadra forte, Liverpool meglio, Tottenham meglio. L'Atletico Madrid vi ricordo che negli ultimi anni ha fatto ben due finali di Champions League e le ha perse tutte con l'Atletico Madrid, ma comunque le ha fatto due finali di Champions League. E tra l'altro è una buona squadra che gira bene, ricordiamo che c'è un certo Griezmann nell'Atletico Madrid, c'è un certo Godin nell'Atletico Madrid, c'è un certo Black nell'Atletico Madrid, c'è un certo Gimenez nell'Atletico Madrid. Quindi abbiamo capito che l'Atletico Madrid è una squadra fortissima e c'è anche un certo Diego Costa che dopo che è stato scaricato dal Chelsea, dal Chelsea di Antonio Conte della scorsa stagione, con l'Atletico Madrid si è ripreso e con Griezmann sta combinando abbastanza bene. Quindi ragazzi, non mi importa nulla se la Juventus ha preso l'Atletico Madrid, poteva prendere anche Pinco Pallino, ma l'obiettivo della Juventus, che l'ha detto chiaramente Agnelli, è stato che la Juventus deve vincere la Champions League. Agnelli vuole vincere lo Scudetto, vuole vincere la Coppa Italia, vuole vincere la Champions League, l'ha detto chiaramente all'inizio stagione, la Juventus non è più un sogno, la Champions League deve essere un obiettivo, un obiettivo ed è per questo che anche se perdiamo 4-0 all'andata e vinciamo 5-0 al ritorno, l'importante è che passiamo, l'importante è che passiamo i quarti, l'importante è che passo dopo passo andiamo alla finale e a vincere sta cazzo di Champions League. Mi sono rotto le palle di vedere la Champions League col binocolo, adesso basta, bisogna vincere la Champions League, punto e basta. L'Atletico Madrid voglio vederlo, ha sfaltato, punto, perché noi siamo la Juventus e adesso basta, adesso basta, la Juventus deve vincere la Champions League. Basta, Scudetto, Coppa Italia, ormai un club grande come la Juventus non si accontenta, anche i tifosi non si accontentano più di un semplice Scudetto, di una semplice Coppa Italia. Adesso vogliamo fare anche qualcosa a livello europeo, basta, vogliamo vincere la Champions League. Comunque, parliamo anche della Roma perché la Roma ha preso il Porto, ha preso il Porto, squadra sicuramente che in prima fascia era la squadra più abbordabile per la Roma, però se la Roma gioca come gioca in questo ultimo periodo oppure le squadre come il Porto possono, senza troppi problemi, senza girarci attorno, anche il Porto può battere la Roma. Quindi la Roma sicuramente deve riprendersi dal punto di vista mentale, dal punto di vista di tutto, da ogni punto di vista deve riprendersi e poi dopodiché sicuramente contro il Porto sarà una passeggiata. Ma già per i tifosi romanisti questo sarà sicuramente una notizia bellissima, una notizia che farà godare, dato che negli ultimi anni la Roma è stata sempre sfortunata per quanto riguarda gli ottavi di Champions League quando era in seconda fascia. Per la prima volta la Roma è stata fortunata, ha preso il Porto, buon per la Roma, noi siamo stati meno fortunati, ma vi dico anche tutti i risultati. Allora Schalke 04 ha preso il Manchester City, tenete a comprare Juve, Manchester United PSG, questa bella partita United-Paris Saint Germain sicuramente, però credo che passi il PSG, mentre Schalke 04 e Manchester City ovviamente passa il City. Tottenham e Borussia Dortmund, un'altra bella sfida che però secondo me vincerà il Borussia, Borussia bellissima squadra quest'anno, organizzata molto bene. Lione, Barcellona, gara, buccio di culo, ogni volta le spagnole devono avere un buccio di culo agli ottavi, porca puttana. Poi Roma-Porto vi ho già detto, Ajax e Real Madrid, un'altra, anche se ovviamente rispetto a Lione, l'Ajax è una squadra più rognosa, una squadra che sicuramente non darà vita semplice al Real Madrid, spero al miracolo dell'Ajax, forza Ajax in questo momento. E poi Liverpool-Bayern Monaco, la sfida migliore che ci propongono gli ottavi di Champions League. Liverpool-Bayern Monaco è una di quelle partite imprevedibili, secondo me può passare sia Liverpool che il Bayern Monaco, sono due squadre fortissime entrambe, questa è una bellissima sfida che non mi voglio perdere. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra con un commento qua sotto sui gironi di Champions League, iscrivetevi al canale quello che non l'avete ancora fatto, lasciate like se non l'avete ancora lasciato, in descrizione trovate i miei social, Instagram e Facebook, mi raccomando, link in descrizione, seguitemi anche lì, detto questo, ciao ragazzi!